Pronto? Mettila in posizione, tira la indietro e dai via. Bene, stringersi. Non possiamo farlo ogni mattina, è troppo ridicolo. Solo a fine i suoi 18 anni, sorpresa. Vado io. Poliziere Pitbull, questo ha mandato di arresto per Laura Brenna. E' un arresto per omicidio. Trovo un avvocato! Laura! Dimentichi le sbarre, sua moglie. Guardi le prove. Ho visto le prove. Lei è innocente. Non importa cosa crediamo noi, Laura non uscirà. Credi che mi bacerà ancora? Certo. Mia moglie ha tentato il suicidio. Devo vederla. Due minuti, la prego. Non credo di poter resistere altri vent'anni. Te lo prometto, questa non sarà la tua vita. Cosa vuoi sapere? Come hai fatto a fuggire? Non ci ha riuscito nessuno. Nessuna prigione ermetica. Devi avere tutto il piano già stabilito. E devi chiedere a te stesso. Puoi uccidere una guardia? Lasciare tuo figlio a una stazione di servizio? Per fare questa cosa, ecco cosa devi diventare. E se non puoi, non iniziare. Farei solo uccidere qualcuno. Dimmi dei proiettili. Mi servono dei passaporti. Vieni troppo a questa cosa. Manderai tutto all'aria. Torno subito, va bene? Va bene. Perché lo stai facendo? Perché non abbiamo scelta. Corri, corri! La polizia può isolare il centro della città in 15 minuti. Nel giro di 35 minuti possono avere sbirri a ogni casello dell'autostrada. Fermate quel treno! Reggiti. E se non riesco a fuggire? Allora arrenditi, perché ti spareranno a vista. Laura! 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 Laura!